E così è passato più di un mese dall'ultima volta che ci siamo sentiti e mi sembra incredibile che possa essere passato tanto tempo e così in fretta. Il fatto è che mi piace mettermi davanti a questa telecamera e raccontarti quello che succede su quest'isola, che cosa facciamo, le cose belle di cui godiamo e anche le problematiche con cui ci confrontiamo e le cose che purtroppo stanno cambiando e non sempre meglio. Che poi questa faccenda del meglio e del peggio andrebbe davvero ricontestualizzata, perché diciamoci la verità, il mondo si evolve e le situazioni cambiano in conseguenza quello che succede. Il fatto è che quando abbiamo deciso di venire a vivere qui, le cose stavano così e oggi stanno cosà. E forse quello che ci porta a lamentarci è più che altro la predisposizione connaturata all'essere umano di non essere quasi mai propenso ad accettare i cambiamenti. Credo che anche tu avrai sentito più di una volta dire ai tuoi genitori e ai tuoi nonni che si stava meglio una volta, ma poi se vai ad approfondire le cose scopri che non è vero. Proviamo a immaginare anche solo per un secondo che fosse vero che si viveva meglio, che so, nei mitici anni 60. Beh, se diamo un'occhiata a questa tabella scopriamo che a quei tempi l'aspettativa di vita media era di 69 anni, mentre oggi è di 84 anni. Davvero, in tutta onestà mi vuoi dire che sareste disposto a rinunciare a 15 anni di vita per tornare a quei bei vecchi tempi? Potrei portarti altre decine di tabelle sull'aumento dell'alfabetizzazione, sulla miglioria delle cure mediche, sull'ampliamento dei servizi a nostra disposizione, sulla drastica diminuzione della mortalità infantile, sul quasi totale debellamento di malattie come la poliomelite o altre per cui una volta c'era un'altissima mortalità? E, beh, credo che tu abbia capito dove voglio arrivare. Lamentarsi fa parte della nostra natura e se non abbiamo niente per cui lamentarci siamo bravissimi a ingrandire le piccole storture della vita e a renderle delle piaghe bibliche nella nostra mente. Ti starai chiedendo perché ti sto parlando di queste cose e che cosa posso centrare con Tenerife? E il fatto è che proprio in questo mese di agosto mi è successa una cosa molto curiosa, una di quelle piccole cose che possono capitare nella vita e che ti portano a fare grandi considerazioni. Un episodio che mi ha costretto a guardare più onestamente la mia vita qui su quest'isola e oggi vorrei raccontarti cosa mi è accaduto e di che cosa mi sono accorta. O forse solo di qualcosa mi sono ricordata che stavo dimenticando. Beh, adesso c'è la sigla, ma tra dieci secondi te ne parlo, non te ne andare! Ciao, sono Antonella e sono personal shopper immobiliare dell'agenzia Casa Ora di Tenerife. E non ti nascondo che questo 2024 è stato davvero impegnativo sotto tanti aspetti. Per la mole di lavoro e di rogiti che abbiamo dovuto portare a termine, per i tanti cambi normativi nella legislazione immobiliare che ci hanno costretti a riaggiornare le nostre procedure e la contrattistica, per una serie di cambiamenti che abbiamo portato all'organizzazione della nostra attività, per alcuni miglioramenti che abbiamo voluto implementare nei nostri servizi e last but not least, ultimo ma non meno importante, per una sorpresa che ti stiamo preparando e che non vedo l'ora di finire di mettere a punto per potertelo annunciare e vedere se ti piacerà tanto quanto sta piacendo a me. Per tutti questi motivi quest'anno io e Massimo abbiamo deciso di prenderci agosto di semipausa. Perché dico semi? Perché ci siamo dati dei progetti da portare a termine ma in maniera autonoma, senza orari o scadenze prefissate, salvo il completarli entro la fine del mese. Così, approfittando che la mia piccola Martina tutti i giorni era felicemente parcheggiata in un campo estivo e che l'unico problema che mi dava era il convincerla tutti i pomeriggi che doveva tornare a casa e che non poteva vivere lì, mi sono organizzata la mia giornata con momenti di lavoro, momenti per la casa che onestamente avevo ultimamente un po' trascurato, un po' di tempo per la cucina che rimane sempre una delle mie passioni e il resto della giornata per la mia famiglia, la spiaggia, la piscina, la scoperta di alcuni angolini di Tenerife che ancora non avevamo visitato, il piacere di provare alcuni guacince con cui non c'eravamo ancora aderristiati e persino diversi lunghi momenti dedicati solo a me per leggere un libro in terrazza piuttosto che andare a trovare un'amica. Insomma, che posso dirti? Forse penserai che sono troppo semplice nelle mie soddisfazioni, ma che vuoi farci? È così che sono fatta ed è così che sento di stare vivendo un tempo di qualità. Ma veniamo a quello che mi è successo e tutto nasce quando un pomeriggio io e mio marito andiamo a recuperare la piccola Martina al campamento e dopo i soliti quindici minuti a base di no non puoi vivere qui, sì il bagnino ci vive ma tu no e promesse del tipo vedremo il prossimo anno ok? Finalmente riusciamo a portarla via e a dirigerci ad una spiaggia vicina dove poter godere di qualche ora di sole e di una cenetta di pesce in una terrazza affacciata sull'oceano. Così arriviamo e ci sistemiamo e mia figlia si sguinzaglia immediatamente perché devi sapere che è una bambina molto vivace e che se l'abbandonassi nel deserto farebbe amicizia con le lucertole. Infatti non passano 15 minuti che torna all'ombrellone con una durabile ragazzina che aveva più lentigini che i capelli e mi dice questa è miranda è di lodi ha quasi sei anni quest'anno va in prima ed è mia amica. In cinque minuti aveva raccolto più informazioni su una persona mai vista di quante ne abbia io sul mio socio massimo dopo quattro anni che ci lavoro insieme e per di più era già sua amica. Che meraviglia essere bambini e comunque erano già sparite per i loro mondi correndo via tra risate e chiacchierine. Mi guardo in giro e intravedo quella che intuisco essere la famiglia di Miranda quindi mi alzo e vado a conoscerli. È proprio vero che i bambini sono il riflesso dei genitori e quella coppia era talmente sorridente e divertente che alla fine ci ritrovamo a cena tutti insieme. Così tra una portata e l'altra ci raccontiamo da dove veniamo che cosa facciamo e che tutti ci stiamo godendo le ferie e su questo argomento è lei che se ne esce con una frase di quelle quasi scontate. Bello però fare le vacanze a Tenerife e per di più viverci. È stato in quel momento che mi sono resa conto all'improvviso che non ero in vacanza stavo semplicemente facendo la vita che faccio tutti i giorni. Sì negli altri mesi io Massimo e Silvia ci riuniamo un paio di volte a settimana per fare il punto ma lo facciamo in una saletta di un bar facciamo colazione insieme ci raccontiamo episodi o corsi e la riunione è un momento di crescita che condividiamo decidiamo insieme e ci piace quello che progettiamo perché è qualcosa di nostro che creiamo tutti insieme. Insomma alla fin fine è come vedersi con degli amici un paio di volte a settimana. Per il resto distribuisco i miei impegni appuntamenti in maniera che si incrocino con la mia vita familiare lavoro principalmente da casa passo molto tempo con la mia famiglia ho tempo per un libro o per una nuova ricetta che voglio provare e se decidiamo di andare in spiaggia o fare un giretto non manca mai né il tempo né la voglia. Insomma all'improvviso ho capito che non so come la vuoi vedere ma che sono sempre in vacanza? Che non sono mai in vacanza perché lavoro sempre? Non lo so davvero e tu vedela come vuoi perché quello che so per certo è che quando ero in Italia e dopo 40 minuti di strada arrivavo in ufficio dove stavo per 9 ore compresa la pausa pranzo non facevo questa vita e quei 10 giorni di vacanza un paio di volte all'anno non sono minimamente comparabili con quello che ho adesso. Insomma ho capito di essere una privilegiata per poter vivere su quest'isola con questo clima in mezzo a questa gente circondata da mare e montagne a pochi minuti e con il tempo che gira così come io lo dispongo e senza essere più io a girare così come il tempo disponeva per me quando vivevo in Italia. È indubbio che quando arrivai qui c'era meno gente, c'era più calma, meno traffico, prezzi più bassi e forse anche meno maleducazione e gente stressata. È vero anche che vivendo in un posto dopo un po' di anni le cose perdono quel velo di magia e d'incanto attraverso cui le guardavi una volta e si rivelano per quello che sono. Non sono belle e neppure brutte. Sono così. Sono diverse da quello che sembravano ma sono esattamente come erano sempre state. Mi accorsi che le cose non erano poi cambiate così tanto. Ero cambiata io e adesso non ero più la straniera che camminava incantata per le vie soleggiate sorridendo al vedere un pappagallo su un balcone o una palma al vento. Ero diventata una del luogo con i suoi pro e con i suoi contro ma con una vita che in Italia non avrei mai potuto avere. Non guadagno di più di allora. Non faccio più cose. Semplicemente vivo una vita di qualità e posso farlo perché ho 12 mesi all'anno di bel tempo che mi permettono di uscire in qualunque momento. Ho sempre il sole che mi sorride e che mi fa sorridere e non sono più prigioniera di stagioni, meteorologia e... beh, neanche di un orologio. Ecco, questo è quello che mi è successo e volevo condividerlo con te perché non capita tutti i giorni di rendersi conto che la mia vita è fatta di tanti agosto che si succedono uno dietro l'altro e che ho diritto di lamentarmi perché come ogni persona vorrei che tutto fosse un po' più bello, ma contemporaneamente non ho diritto di lamentarmi perché oggi ho molto di più di quanto dieci anni fa avrei mai potuto sognare. Non so se oggi ti ho parlato di me o di Tenerife, ma chissà che un giorno tu non decida di venire a vivere qui. E in quel caso, se dovesse mai arrivare il momento in cui sentissi di doverti lamentare per qualcosa, pensa bene alla vita che starai facendo e confrontala con quella che facevi. Potresti accorgerti di voler ritornare a quello che avevi o potresti renderti conto che non hai diritto di lamentarti perché anche tu sarai un privilegiato che può vivere a Tenerife. E dopo tanto tempo che non ci sentivamo, cosa potrebbe farne più piacere di trovare un bel like sotto a questo video e magari un commento in cui mi dici dove sei stata in vacanza. Se vuoi darci una mano, la tua iscrizione al canale è sempre un grande aiuto e se hai ancora 5 minuti da spendere, fatti due risate con Massimo che ti parla della nostra burocrazia. Beh, alla sua maniera. Bienvenido a Tenerife!